Se volete acquistare i crediti di FIFA Points a pressi bassi dal sito più veloce al mondo Nella consegna passate da IGVOLT con il link e il coupon in descrizione Signori come al solito prima di lasciarvi al video Dato che questi pack opening di Toz sono uno più epico dell'altro Vi invito a guardarlo tutto e a lasciare un bel mi piace Cerchiamo di arrivare a 5000 Lo scorso video è andato benissimo, lo scorso pack opening Quindi mi raccomando lasciate un bel mi piace e buona visione Buona prima ragazzi, qui è già Season, siamo tornati signori Finalmente con il pack opening di Toz e la BPL Intanto controllo che stiamo tutto registrando perché signori È una squadra a dir poco spettacolare Che cos'è qui? Wow, cioè giocate il torneo e vi danno HUT Non scambiabile, il team of the season Non male dai, HUT fa abbastanza cagare Però va bene, comunque signori Vi faccio vedere i tre Porco due Mares 93 A mio parere esagerato Così come Vardy 91 A mio parere troppo pompati Però sono opinioni personali Che i 93 signori Ve li faccio già vedere che ho la rosa sperimentale E già ce l'ho messi dentro insieme a Koon Andiamo a cercare il Koon Madonna io vorrei troppo signori O il Koon o il Zill Vabbè ovviamente sono i migliori Koon non c'è Vardy Vardy signori Quanti ce ne stanno di Vardy? Oh mio Dio Signori comunque Bando alle ciance Già mi sto dilungando troppo Ci abbiamo tre pacchetti gratis Purtroppo non ne sono riuscito a accumulare di più Poi ci abbiamo Pacchetti da 25.000 25 Le apriremo Tutututututututti E pacchetti da 15.000 Ovviamente Le apriremo Fino ad esaurimento FIFA points Andiamo subito col primo pacchetto Ma prima lasciate un bel mi piace Perché signori Questi pacchetti gratis Fanno cagare E non troveremo assolutamente niente Perché non ne ho Accumulati abbastanza Comunque prima pacchetta 7.500 Subito così Niente Pensavo fosse Però è della BPL Ma non è TOTS Quindi buono così Grazie Gli esports Pacchetto eropreno maxi Gratis Signori Gratis Subito un Tots qui mares E me ne vado via Vado via Ok Ok Sto rompendo tutto Intanto come potete vedere Mi hanno tolto il gesso Ho questo tutore Qui per il braccio Quindi speriamo che non smetta La fortuna del meno mato Perché la fortuna del meno mato Ci ha fatto trovare Gente pazzesca Quindi speriamo bene Pacchetto ero orari gratis Signori Pacchetto ero orari A 25.000 gratis Dai Gli esports Gli esports Mi sa che oggi Non ne troveremo manco uno Perché sono veramente devastanti Guardate Altro Grazie mille Altro da BPL E vai Che bello così Signore E qui Non troveremo assolutamente nessuno Io lo so E voi lo sapete E lì lo sa Cazzo in culo Dai Dai porco due in blu Rodriguez Vaffanculo Madonna Oh no Poteva essere Lukaku 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 Signori Non è lui invece Porco due Minotto lingue Godin Godin Uh buon pacchetto Buon pacchetto La cascosta è Godin Signori Very good Fucking pacchetto Signori E Esports In a game Eccolo No vabbè Ma allora Mi stai perco No Pensavo fosse Bayer Ma Bayer Sa West Ham Ho flashato Bayer Non so per quale motivo Ho detto Ma questi figli di buttana Mi stanno proprio Perculando malamente Porca Pure trovare Bayer Non sarebbe male L'unica back Che è esterno-sinistro Anziché C-O-C Signori Perché l'hanno fatto esterno-sinistro Ma l'altro Sei proprio strozzo Dai signori Questa è Maletta nel naso Back Un altro BPL La merda Signori Non so che cosa fare Devo chiamare un esorcizio Qui Come l'altra volta Ma l'altra volta Almeno uno L'abbiamo trovato Ma è impossibile Trovarli questi Signori Come cazzo Se fa a trovarli Chi è Barzali di no Uuu Maxwell 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 Corrutto annesso Signori Quanto cazzo vale 10.000 10.000 Guardate Adesso lo scarsa Adesso mi metto Lo scarsa su un is Mi ha fatto un milione Di visualizzazioni Guardate Boom L'ho scartato Vaffanculo Ma cazzo di merda Muori Annoter Pecche 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 Annoter Pecche Pecche Riberi di nuovo Signori Un toz Un toz Eh vaffanculo Riberi Va bene Riberi Va bene Però signori Dopo Riberi abbiamo trovato Dopo aver trovato Messi Quindi forse è un signor Il destino Forse Forse Lì ci sta dicendo Che tra poco Troveremo un toz Forse è così Questo lo apriamo Col telecomando Signori Telecomando Pecche Ormai le provo tutte Signori Non so che cosa fare Le proviamo tutte Telecomando Fucking Pecche Vai Vai Figlio di buona donna Vai Telecomando Fucking Pecche Signori Il telecomando Fucking Pecche Sicuramente ci porterà Un toz Oh Meno Starridge Oddio Oddio Non ci credo Starridge Starridge Oddio Motm Non è toz Ma va bene Lo stesso Quanto vale Quanto vale Quanto vale Quanto vale 150.000 Vabbè Oh Comunque Motm Comunque Motm Signori Dai Non è male Non è male 100 Pensavo molto di più Starridge Motm Cazzo Non è toz Ma va bene Lo stesso This is a very fucking Complotto Eccolo Pepe di merda Un altro if Perché mi dà degli if di merda Quanto vale Johnny Anzi è Johnny Gianni Gianni Vabbè lui Vaffanculo Gianni Muori Argabbio Dentro Argabbio Mi mandano Runei Il bambino d'Inghilterra Il bambino d'Inghilterra Signori Il bambino d'Inghilterra Va bene Il bambino d'Inghilterra Ma non è toz Non è toz Non è toz Signori Non vogliamo i toz Dell'Inghilterra Noi bambini d'Inghilterra Per te Che cazzo Mi sto drogando Va bene Vai toz Toz Chi è Tony Cross Toz Ti prego Toz Dammi paletta di merda Per favore Anzi paletta è un grande giocatore Un top player Cioè Io non voglio toz Voglio paletta Sergio Ramos Oddio Non è toz Però Vaffanculo Vaffanculo Perché Dio mi odia La madonna Anche Quanto vale Quanto vale Quanto vale Quanto vale Quanto vale Quanto vale Pure 250 Porto 2 Cioè Vabbè Porca puttana Vabbè Che è un grandissimo Il migliore di stasettimana Signori Però non è toz Perché Non hanno Toz De merda Dammi Morgan Che vaffanculo Vabbè Sergio Ramos Comunque In the box Bravi In the box Pop in the box Signori Perché Comunque Sergio Ramos È un grande Top player Lo dicono tutti I più grandi Scienziati Della vita Signori Ultimo pacchetto Di questo episodio Purtroppo Niente Toz Perché Lì Ci odia Però abbiamo Trovato Un mot Un if Cioè Tre if In realtà Di cui uno Sergio Fucking Ramos Anzi Apriamoci l'ultimo 7500 Dove non uscirà niente Però ce l'apriamo Perché noi Tentiamo fino all'ultimo Con Aguero In copertina Dacci Aguero Chi è No Vabbè ma allora Sei un figlio di puttana Vaffanculo Allora vaffanculo Allora vi faccio vedere Signori I giocatori Anzi Abbiamo un pacchetto Oro gratis Guarda caso Che qua ci esce Il Toz Non è vero Però guarda caso Che ci esce il Toz Signori Guardalo il Toz Nel pacchetto gratis Ok non è vero Scherzavo Vi faccio vedere Quindi quelli Che abbiamo trovato Poi comunque Se aprirò altri pacchetti Stasera Vi metterò la clip Nel caso trovi qualcosa Ovviamente Vedete che Questi giocatori Il tutorial Lo dai a tua mamma Vedete il primo proprietario Primo proprietario Guardate Guardate Ok Sergio Ramos E Storige Storige Guardate Storige Però Non abbiamo trovato un Toz Mi dispiace un casino Perché lo volevo Volevo tanto Un Toz Però vabbè Non l'abbiamo trovato Comunque io mi invito A lasciare un mi piace Cerchiamo di arrivare a 5000 A caso Non ci arriveremo mai Però 5000 Mi piace Lasciateli Mi raccomando Noi ci vediamo al prossimo video Vi ringrazio Facciamo sempre la visione Intanto qua Se è fatta notte Da quanto sto spacchettando Pensate voi Quanto mi drogo Di pacchetti E noi ci vediamo al prossimo video Passate dal sito di video In descrizione Se volete Credivere Vasi Toz Ciao Signori Non ci credo Non ci credo Guardate Vi faccio vedere Se riesco col braccio rotto A farvi vedere Stavo spacchettando Sulla web app Ho aperto Due pacchetti Da 15.000 A caso E guardate un po' Signori Guardate Guardate Alderweil Alder È mio È mio Guardate Lo sto muovendo Lo sto muovendo Dalla web app Guardate 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 Non riesco Non so se riesco A farvelo vedere Non so se riesco Signori guardate Sono riuscito a mettere il pc In una buona posizione Per farvelo vedere Guardate 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 Eccolo Eccolo Allora andiamo avanti Prosegui Vi faccio vedere Guardatelo Guardatelo Quanto è figo Non riesco Guardatelo 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 È fighissimo È mio 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 Guardatelo L'ho trovato finalmente un tos Tre if Un man of the match E un tos Si cazzo Si cazzo Si cazzo